I titolari di passaporto italiano possono permanere effettivamente nel territorio cipriota, senza la preventiva richiesta di un permesso di soggiorno o una visa, per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco temporale di 6 mesi. Al termine di tale periodo di soggiorno, occorre necessariamente richiedere ed ottenere una visa di lunga durata, quindi la residenza temporanea. Al fine di ottenere quest'ultima, occorre richiedere all'ufficio immigrazione il certificato di registrazione, chiamato Ciprusiello Sleep in quanto stampato su carta gialla, che conferirà molti diritti dei cittadini ciprioti, quindi la possibilità di soggiornare a lungo, così come lavorare o intraprendere attività commerciali a Cipro. Per il perfezionamento dell'ottenimento del certificato di registrazione, comunemente rilasciato entro 5 giorni, dovranno essere presentati alcuni documenti e moduli, come ad esempio un contratto di affitto e la prova di un reddito. Se pensi che qualcuno dei tuoi amici trovi queste informazioni utili o interessanti, puoi usare il pulsante Condividi per condividere il video su Facebook, Twitter, WhatsApp o qualsiasi altro social media. Se necessiti di una consulenza specifica, puoi invece contattarci ai recapiti che trovi in descrizione. Ricordati, infine, che le leggi cambiano in continuazione, dunque è indispensabile verificare la legge in vigore nel momento in cui decidi di delocalizzare e trasferirti.